Siamo qui con il mister Massimo Gardano dopo il fondamentale successo per un a zero esterno della Pro Vercelli sul campo del Pordenone. Mister, se i tre punti contro l'Arzegnano valevano doppio, quanto è pesante il successo di oggi? I punti vanno sempre, quello che dice la classifica, quindi punti doppi vanno sempre tre punti. È normale che aver dato continuità non è così importante, però come sempre nei momenti difficili, avevo sottolineato la prestazione, va rimarcata di nuovo la stessa cosa. I ragazzi hanno prodotto anche delle buone cose nel primo tempo, forse abbiamo trovato il gol in una situazione che meno si riferiva a un'azione pericolosa, però il gol vale sempre. È stato bravo anche Armando a provare a tirare e poi siamo stati bravi con spirito, con cuore, con gambe, con corsa, con atteggiamento. Quindi oggi si festeggia e da martedì tutti uniti, concentrati verso gli ultimi metri che mancano per raggiungere i nostri traguardi. Era importante, visto anche il momento, i due giorni di festività, riuscire a passare in modo sereno. Credo che anche questo era un obiettivo, martedì ci ritroveremo e siamo pronti per queste ultime due partite per vedere di riuscire a terminare nel modo migliore possibile e raggiungere il nostro obiettivo. Grazie. Grazie a voi.